Ricordo una volta che hai giocato all'avvocato Però spero che il 37 deve per forza di fila con un solo respiro Non è vero bro, non ci credo mai Sì che c'è senso, Guido non si arrabbia per C16 Tomo Ico, grazie per i 27 mesi, fratello Ah va, dici, è un'esaltazione Non c'è senso, nel senso che è incredibile Ok, quello sì sì, è fuori di testa Ok, ok Guido, sì sì, scusa, sono... Sono stupido Non l'avevo capito Non l'ho capito, porterai coi coi qui sul pesco Twitch È già successo nella vita, ma no Non è che sia un formato di punta Ti prego per non fare più Elden Bing No, tornerà ovviamente Non so quando, ma torna di sicuro Perché no? È un gran contenuto, secondo me La randomizzazione Magari tutti a noi perché sei un cazzo umano Oggi cosa si fa? Boh, farà sincero Non lo so proprio Come va il processo di scrittura del nuovo albo? Ho aggiunto qualche affarino Ma oggi non è stata una giornata particolarmente produttiva Anzi, il coi coi mi ha risucchiato Tranquillo, per sé è una buona serata Appena con tanti 40 le per forza in fila in una sola volta Non ci chiederò mai fra Oggi ho giocato a FIFA Ho fatto due partite a FIFA e l'ho perso entrambe Squadre solo di carte blu Che facevano un tiro, un gol Quindi ho sfondato l'altra F4 e ho chiuso Sbate, ragazzi, per i tre mesi Fratello, ragazzi di cuore E ho finito di farmare le stone Su Dokkan, anche Finito di farmare le stone su Dokkan E siamo a... Abbiamo 500 stone Quindi dopo domani spingeremo 500 stone 500 dragon stone su Dokkan Battle E ciò che esce su Dokkan Battle è un nuovo Goku God Aspetta che lo cerco, eh